Formazione, sicurezza e benessere, queste le tre parole chiave del protocollo d'intesa firmato oggi nella prefettura di Macerata per tutelare personale e studenti del mondo della scuola. Un protocollo definirei molto importante perché è un protocollo fatto su misura per il mondo della scuola, quindi un protocollo che mira soprattutto nel campo della prevenzione e per garantire standard sempre più elevati di sicurezza e di salute. L'accordo, sottoscritto anche dall'azienda sanitaria territoriale e dall'INAIL del capoluogo marchigiano, prevede tre punti principali. Il primo è l'aggiornamento dei docenti che seguiranno dei corsi sulla sicurezza in aggiunta alla formazione già prevista. Il secondo è un'iniziativa per rafforzare la tutela degli studenti impegnati nei PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'ex alternanza scuola-lavoro. Il terzo ha come obiettivo il benessere psicologico del personale scolastico, docente e non docente, che in caso di stress particolarmente intenso associato al lavoro potrà chiedere aiuto ai professionisti dell'AST. Formare giovani studenti ad una sensibilità alla sicurezza vuol dire formare giovani lavoratori che un domani si troveranno nei luoghi di lavoro e vedranno la loro sicurezza preservata. In futuro il protocollo potrebbe essere replicato anche in altre realtà territoriali, un passo importante, secondo l'INAIL, perché il rischio sul lavoro nella scuola non è inferiore a quello che si riscontra nel mondo delle imprese.